Per andare dietro alla prianzola della Pro Sesto, che è scattata dalla terza corsia davanti a lei, la dobbia figlia d'arte, Alessia Baldini, la mamma faceva il cielo di piste da tanti. Prima di st'italiano, la dobbia figlia d'arte, la maschera. Come bene Alvicin, sesta corsia, giù in terza arriva, arriva la Zeli, rettilineo finale, Brunetti deve lavorare per recuperare sulla Bresciana, Zeli agile e facilissima in questo finale. Eccola, Zeli al Mici, 54 e 16.